Amici di Player Inside, sono felicissima perché finalmente metto le mani su My Time at Sandrock che è praticamente il sequel di My Time at Porsche e voi sapete che ci ho perso i mesi su quel gioco. E proprio per questo motivo Focus Entertainment ha notato questa cosa che a te era piaciuto, My Time at Porsche. Vabbè, vabbè, è un'importanza. E quindi questo video è in collaborazione per presentarvi My Time at Sandrock, visto che il video è in collaborazione con loro, e in descrizione trovate il link qualora foste interessati al gioco. Ah, ma c'è pure l'editor, va bene ragazzi. Bello, è finita. Video rinviato, un'ora di video, no? È finita, è finita. Allora, vi ricordo, noi stiamo giocando su Steam ma il gioco dal 2 novembre è disponibile anche su console e anche su Switch. Ma l'editor è piuttosto profondo, eh. L'editor è profondo, sì sì. Allora, mi ricorda molto quello di My Time at Porsche però sembra molto più... Curato. Anche graficamente è molto più bello. Vabbè, guarda, io accetterei così il personaggio, vediamo che ci sono tante... Barba? Barba no. Midna. Midna. Perché Midna? Perché è tutto cutie, è tutto carino. Ah, sono nata, facciamo in prima estate, in estate il 20. Attenzione, un treno. Esatto, vabbè, come in tutti questi giochi devi arrivare o in treno con l'autobus. Oppure un altro treno. Insomma, con un mezzo. Tra l'altro appunto l'ambientazione è diversa rispetto a quella di Metano a Porsche. Più desertica, più canyon. Esatto, più canyon, più west. Infatti c'era anche scritto Sandrock needs builders, cioè costruttori o boulders. Eh, quello chi è? Cioè demolitori. Quello è uno. Allora, in questo gioco, oltre a avere la propria casa, la propria fattoria, i propri animali, bisogna anche costruire tanto. Bisogna costruire dei macchinari per mantenere la casa, per produrre materiali. Tutti abbiamo dei macchinari fuori casa per mantenerla. Ma anche, ragazzi, bisogna esplorare. Cioè, è anche GDR. Bisogna proprio esplorare. Ci sono le miniere, ci sono dei pericoli da affrontare. E tra l'altro c'è anche una modalità multiplayer. C'è anche una modalità multiplayer vitrina. No, il cartello. Ma che carina questa. Che chiudi. È più carina di te. Eh, sì, grazie. È più carina di me, effettivamente. Si chiama Mian. E lei è l'altro costruttore. Cioè, da fare le cose sempre dal principio. Dal principio, esatto. E questa è una cosa buona. Di solito, quando dovete cominciare, questo è un consiglio per i più. Cominciate dall'inizio, che è una cosa che effettivamente... Così si corre e vedi che è tutto tipo deserto. Bello, perché c'è questa ambientazione diversa. Canyon, sì, infatti. E poi si possono anche intrecciare delle relazioni con le persone. Allora, intanto devo fare il tutorial, quindi parliamo con loro. Vabbè, lui è il supervisore. Ci dà l'adesso era di Mason, la bottega. Adesso è una bottega. Ah. Senza a tutte le favolose cose che potrei creare. Sìììì. Settivamente, graficamente è il suo perché. È uno stile particolare. Non ci sono molti alberi in giro, quindi brandire l'ascia è una cosa disprezzata. Se invece voi vi giustificate e dite, no, no, io voglio andare ad accettare qualcuno. Ah, va bene. Ah, ok. Niente di strano. Però ci dà una piccozza martello. Trovo anche il legno in giro. Però legno da rottami del vecchio mondo. Perché è come se questo fosse un mondo costruito... Su un vecchio mondo. Sul nostro mondo. Che è andato in malora. Che è andato in rovina, sì. È già abbastanza... Brutta. Mi ha lasciato un banco da lavoro. Dobbiamo creare la piccozza martello. Non è che mi hanno fatto trovare, che ne so, una piccozza pronta, no. Ma sai com'è, anche un mini frigo con quattro baiocchi, niente. Fornace fatiscente. Lascia di pietra. E questa non la brandire, mi raccomando. No, no, no. E se no, ti ammazzo. No. La devo usare sulle cose, sui rottami, tipo qua. Vabbè, questa è per adesso tutta l'alleggiante. Pila di ferraglia. Ah, devo raccogliere questa. No, quella si raccoglie. Che fai? C'è anche legno, infatti. Vedi? Più tre di legno, più due di pietra. Manca un po' di legno. Hai preso diversa roba. Ma ecco, però è il legno. Quelli ti dicono che ti guardano con l'occhio svercio. Ma quello non sto abbattendo alberi. Ah, ok, giusto. Amianto più dodici. L'artillo delle sabbie, chi sono io per non raccoglierlo? Infatti. Dalle piante puoi ottenere materiali come medicino, filo, frutta arrugiata. Io ho detto medicino perché ero concentrato su filo. Io immagino che la frutta dia filo. Ah, possiamo creare, penso, la piccozza di martello. Ecco qua. Che chiameremo? Martozza. Picchello. Allora, costruzione. Picchello. Fatto. Perché è fatiscente. Ora, lasciamo perdere il fatto che comunque sia ancora funzionante e che valesse sui suoi 5.000 euro. L'hai dovuta usare per testare la piccozza martello. Ci sta, ragazzi. Guarda che carina la città. È carina. Ma esploriamola un po'. Vediamo che cosa c'è da fare. Per esempio, questo è un wanted Logan che sembra quello che c'era all'inizio che ti guardava dal treno. Eh, sembra lui. Attenzione. Sembra lui, attenzione. Qui la trama si infittisce e c'è anche un po' di lore. Ah, il riciclatore ti fa riciclare i rottami per ottenere oggetti intili. Quindi hanno cambiato il sistema di raccoglimento delle risorse. Perché prima? E creazione delle risorse. Anche raccolta andava bene. Ecco. Costruisci una stazione di assemblaggio. E che ci vuole. Dobbiamo creare un riciclatore? Ah, è finita. Ci sono un sacco di oggetti da creare e quindi mi va a finire come con il conseguimento degli obiettivi e dei trofei. E vedi, questa è la pagina social in cui ti descrive le relazioni che hai con loro. Anche gli oggetti che gli piacciono perché magari gli mandi e fai regali. Storia con mia Anna. Storia con mia Anna. No, io non mi piace. Ah, ti puoi fare anche i vari selfie? Oh, questa è la... Come dire? L'enciclopedia. Sì, sì, sì. L'enciclopedia, che bello. Quindi, che ne so, le specie animali, le specie vegetali, i vari prodotti che farai, man mano spunteranno in quella sorta di album. Ho bisogno di legno. No, ho bisogno della sega a nastro. La sega a nastro è sempre ottima. C'è un ottimo negozio di Blue Moon Saloon. Posso mangiare. Dentro, però, rispetto a come era fuori, no, l'interno tradisce un po' quella... Vedi, Owen già è più interessante la situazione. Vabbè, diciamo le cose tradizionali, la famiglia tradizionale, va bene, va bene. Volevo fare una cosa alternativa. L'altro cucina, quindi ottimo, cioè, proprio fantastico. Però, secondo me, è da evitare totale per un motivo fondamentale. Alla barba, ma non ha il baffo, ma che è? Effettivamente questo è strano. Ma è uno sciente. Vediamo, gli regalo... I baffi. Gli regalo questa cosa. Che cos'è? Quella cosa che ho... I mirtilli velenosi, signor Lom. Ammazziamo subito Owen, con cui voleva fare una storia midunina. Ma ha detto, sembra delizioso, lo apprezzo. Non ti risparmi per accontentarmi. Ma non si prendono per bocca, Owen. Vediamo se è vero. Perché gli ha dato un mirtillo, pensa te. Eccolo qua, conoscente. È 1,88 e pesa 90 kg. Caspita, è pure ben messo. È un nativo di Sandrock. Eh, vabbè, questo... Però questo non ce ne fregava niente. Ordina il cibo. Ottimo, non ho soldi io, quindi ce ne freghiamo... Anche se somigliano alle stelline che c'erano in Alex Kidd. Allora, vasca di vedersi canna. Mi serve... Cose mi servono. Mi servono delle cose. Quattro di Dill, Dinn, come si chiamavano? Dinas. Ah, Dinas, non Dinas. Esatto. Conosciamo tutti il Dinas, che è un materiale. Niente, oh, sto Dinas non ce lo dà. Tra l'altro sai che a nastro due ne dobbiamo fare? Eh. Smettila! Niente, sto Dinas... Oh, ragazzi, hanno dato la versione buggata senza Dinas. E non possiamo andare. E sviluppatori, scusate. Allora, io guarderei la mappa, sai com'è? E andiamo... Ecco, recuperi Eufara. Allora, c'è tipo, negozio di Dinas a un euro. Ah, sai che... Minatrice? Penso sia un errore di traduzione, onestamente. Non si può dire. Dire, non lo possiamo assolutamente dire. Andiamo da Recupero, magari mi vendono il Dinas. Dai, allora, vede del Dinas per cartesia. Dunque, devo dire che non sono messi benissimo. Cioè, la carta da parati... No, cioè, sono arrivati praticamente a questa situazione, ti hanno fatto trovare a sto villaggio uno schifo. Eh, lo vendono. Dinas costa otto euro e tu ne hai zero. Zero, siamo poveri... Però se vengo... Ah, vendi è quella che è giustamente e ti vente le cose. Dai, Dan, ti prego. Fai una cosa, vendigli qualcosa. Eh, no, ma non conviene. Ma vendi il Dinas che hai per comprare altro Dinas. Che puoi fare con gli animali? Eh, mi sa che li posso uccidere, ma loro sono buoni. Però magari hanno del Dinas. Non per... Level up, intanto. Ah, punti salute e l'attacco migliorato. Pollo d'artificio. Cos'è un pollo d'artificio? E se faccio così? No. Eh, non si fa, ragazzi, perché poverino... Non si fa. Se trovate i polli d'artificio, ragazzi, sono in mia destinzione. Non ammazzateli così. L'ho aggiunto alle cicloverie. Ma ha dato quarzo, piuma, razzo del pollo d'artificio. Ma Dinas... No. Dinas! Dinas! Abbiamo preso due Dinas, pure quarzo, rugiata, plutonio... Era nei ciottoli, Ryan. Ragazzi, allora, in un momento non registrato, voi non l'avete visto, però Midna se n'è andata praticamente, ha fatto talmente strada che è arrivata a My Time a Porsia. No, non è vero. Per cercare sto Dinas. No, in realtà erano nei ciottoli. Ha cercato nell'interiore degli abitanti. Non è vero. degli animali. Ha cercato pure... C'era una chiesa, no? Di sabità. L'ha sconsacrata per cercare il Dinas. No, è visto, assolutamente. E ha completato il gioco senza Dinas. Ora, alla fine, abbiamo scoperto che erano nei ciottoli. E Dinas sia. Due pezzi. Pure un verme delle sabbie. Un verme delle sabbie ci sta. Non ce la facciamo mancare. Te lo danno in omaggio ogni quattro Dinas. Ah! Il nostro cannone pirata. Ah, un riciclatore, ok. Volevo vedere la parte esplorativa delle miniere, che è una parte che mi piace tantissimo. E ma chi ti impedisce di farlo? Il My Time at Portia. Facciamo qualcosa. Perché sicuramente ci va poi più avanti, capito? Ah, tu dici sì, ci va più avanti. Eh, bisognerebbe esplorare tutto ben bene. Comunque, questo gioco, al di là... Chi vuole live su sto gioco? Ecco, al di là della collaborazione, se ti piace, voglio dire, lo puoi portare anche in live. Chi te lo impedisce? D'altro canto, per My Time at Portia non è che fosse una collaborazione. L'hai fatto di tua sponte. Gioca bestiole. Vai. Ti vuoi una partita, solo che non ho letto le cose. Non importa. Come gioco io da sempre a scopa. Allora, cosa batte il lupo? Il lupo batte tutto. Questo, questo, vai. L'elefante, il cinghiale. Ah no, è... Fai schifo. Cioè a caso, perché non so lui cosa ha giocato. Non era un lupo, è il retro della carta. Sì, infatti, quale gioco questo? Allora, tipo nelle carte siciliane è la trinacria, tutte carte. No, pari. Gioco la volpe. Hai fatto tipo Joker che... Ho finito, fallimento. Fallimento. Ho perso, ragazzi. Questa è un'altra... Un'altra ufficio sicurezza per l'acqua. Tutti hanno l'ufficio sicurezza dell'acqua. Mondo acqua. Mondo acqua. Vediamo. Si apre dalle 7 alle 22. Ma quindi dovrei andare a dormire. Sono le 22 e 30. Vai, vai a dormire. C'è Nemo. Attenzione, Nemo. Vedi se ha del dinas internamento. Ma che chiudi. Cane domestico svampito. Perché svampito? Ma perché svampito? Perché ogni tanto è un po' brillino. Senti, gli regalo il verme. Ovvio, i cani con i vermi vanno proprio a nozze. Vai. Ruff, mi ha detto. Infatti, c'è Ruff. Però aumentata la relazione di uno. Sì, di quel poco che basta per non fargli schifo. Perché un cane gli regali un verme, secondo me, come minimo, ti dovrebbe attaccare quando ha la rabbia, ma... Poi si può pescare. Il verme sarebbe servito. A sto punto riprendilo dalle feci del cane. Ma chiuso, allora andiamo a dormire. Sì. Eh, ma io come faccio a dormire? Ce l'ho un letto? E questo è la domanda. Non siamo entrati dentro la casa, che era la cosa che attendevo di più, eh? Ah, avevo solo il letto. C'è solo un letto. E una lavagna. Una lavagna. Una lavagna in cui scrivere che... Di valutazione della casa. Statistica. Il letto va bene. Fa schifo. Anche se in realtà fa un po' cacare. Possiamo costruire... Però ora abbiamo solamente la lampada. Sì. Vabbè, dai, dormiamo. Oh, che chiuso. Andare a dormire presto, prima di mezzanotte, ti consentirà di svegliarti sempre al massimo dell'energia. Eh, infatti, ragazzi, imparate. È una cosa che mi ripetono tutti da anni. Scenazza? Ok. Lavoro minorile. Ciao, midrina, consegna speciale. Ah, fa la postina così piccola. Capito? Cioè, in realtà ha 46 anni. È figlia di Trudi. Giornale gratuito. Ah, se ti piace la giova in l'edicola è per abbonarti. Ah, certo, ok, va bene. Allora è gratuito, scusa. Sì, voglio prendermi cura degli animali. Dai, 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 la pastorizia, la pastorizia. Baci di pastorizia. Voglio andare a fare le pastorizia. Scusami, Jasmine, io però devo andare a parlare con Ian. Ma come scappa? Usain Bolt, scusa. Non la stai raggiungendo mai. Jasmine, aspetta, porca. Di qua, ho capito, ma un attimo. L'hai spinto, l'hai spinto, sei veramente maleducata. La vasi di Martel, la signora Martel, il primo sindaco. Ah, adesso sta. Salve signora Matilda. Oh, la signora Matilda, guarda com'è elegante. Attenzione, attenzione. È il ministro del ramo locale della Chiesa della Luce. Ci sono più preposizioni qui che in un vocabolario. Sì, però nel frattempo quella dove è nata. Signora, ministro del locale della Luce, non ci ho capito una mazza. Scusi, ma ho perso la bambina. Eh beh, no, se n'è andata, abbiamo finito la missione, penso. Devi andare a parlare con Ian. Ma al di là di questo, però, quindi la pastorizia non l'abbiamo messa in atto? È perché no ancora, devo sbloccare tutte le funzionalità, Raiden. A parte la gestione agreste, a parte la raccolta e l'harvesting. Eh, infatti io voglio piantare i pomodori. Io volevo la pastorizia. Comunque, tante, tante cose da fare in My Time at Sandrock. Volevo continuare. Se vi interessa il gioco, qui sotto trovate il link in descrizione. Questa era una presentazione. Chiaramente, poi, Midrin, al di là della collaborazione, sono già sicuro che lo porterà qualche volta in live. Sì, sì, assolutamente. Con grande piacere di Focuiuso, che quindi con un video se ne prende un sacco. Vabbè, ma comunque, ci sta. Signori, grazie. Grazie mille, alla prossima. Ciao. Ciao.